Happy birthday! Happy birthday! Compleanno dei nati il 24 aprile per te, i tuoi amici o familiari Iscriviti se ancora non lo hai fatto e... partiamo subito! I nati il 24 aprile hanno il bisogno di manifestare le loro impressioni in scritti poiché è molto importante per loro che gli altri sappiano ciò che essi pensano A volte tendono a sacrificare molto della loro vita all'amore ponendosi così spesso in situazioni di stress Il numero fortunato è il numero 5 e il pianeta... Venere Ma vediamo subito alcuni personaggi famosi nati proprio il 24 aprile Era nata nel 1922 Susanna Agnelli L'attrice Shirley MacLaine nel 1934 Nel 42 nasce Barbara Streisand Lo stilista Jean Paul Gaultier del 1952 Nel 71 l'attrice Stefania Rocca La giornalista Rula Gebral del 1973 Il carattere di questi personaggi potrebbe assomigliare al tuo? Commenta questo video Se non sei iscritto, fallo adesso E torna a trovarci su 20-20